Abbiamo registrato un caso di positività in un centro di accoglienza per immigrati che ci ha preoccupato anche perché in questo centro ci sono una quarantina di ospiti e successivamente un altro caso di una giovane che per la sua attività ha avuto rapporti nella comunità più ambienti. Sono stati dei dati che mi hanno allarmato e proprio per organizzare una mappatura puntuale, precisa con l'ASP ho ritenuto opportuno rinviare l'inizio dell'anno scolastico e sospenderlo fino al giorno 3 ottobre. Quindi giorni utili per poter dare la possibilità all'ASP di poter intervenire con una mappatura epidemiologica adeguata e per mettere tutti in condizioni di sicurezza, soprattutto nell'ambiente scolastico che in questo momento rappresenta la vera e propria criticità. Iniziare un anno scolastico in queste condizioni non è semplice, non è facile e già avvertiamo le difficoltà e i problemi che inevitabilmente si porranno in tutte le sedi scolastiche.